Grazie, grazie. Bandiera dell'Inter, ma idolo in tutti gli stadi, Javier Zanetti è stato accolto a braccia aperte da Catanzaro e dai catanzaresi. È andato a lui, dopo Ranieri, Lippi, Capello, Conte e Prandelli, il premio intitolato al Presidentissimo che fece grande il club dei tre colli giunto alla sesta edizione. Ha parlato del nuovo scandalo calcio scommesse, ha ricordato i suoi inizi dietro un pallone, si è soffermato sulla sua inter, ovviamente, sul suo impegno nel sociale, sulla nuova carriera da dirigente e sui valori dello sport da inculcare fin da piccoli. Il signore del calcio, dal ciuffo perfetto, non ha mancato di ricordare il suo rapporto con i presidenti Moratti e Facchetti. Per lui sarebbe stato un onore poter giocare anche per la squadra del Presidentissimo dal baffetto nascosto dietro gli occhiali, Nicola Ceravolo. A fare da cornice un Politea Mastracolmo, la conduzione puntuale di Sabrina Gandolfi, la coordinazione perfetta di Italo Cucci e l'organizzazione precisa dell'ideatore del premio Ceravolo, Maurizio Insardà. Zanetti saluta tutti, il sipario si chiude, Catanzaro ed il calcio in generale hanno ancora bisogno di simboli come lui e come Nicola Ceravolo.